Ciao! Allora, video molto breve questo, per dirti vivi, godi e lascia la mente a riposo, vai invece nel movimento, fai qualsiasi cosa, spostati, esci, fai quella camminata, corri, nuota, vai in bicicletta, fai ordine nella tua casa, fai un'azione, aiuta qualcuno, prenditi cura delle tue piante, dei tuoi animali, dei tuoi cari, vai a trovare quella persona che non vedi più da tempo, alzati la mattina e fai quello che devi fare, perché spesso lo devi fare, comunque non si può sempre fare quello che si vuole e anche chi pensa di fare quello che vuole e finalmente guidato dal suo passato, dai suoi traumi, i suoi conflitti e dunque si ritroverà, lui crede di essere libero, di fare quello che vuole, ma in realtà il suo passato lo guida, è la sua guida, quando in realtà tu hai l'impressione di scegliere la tua vita ogni giorno, non c'è nessuno che sceglie la sua vita ogni giorno, sì, forse pochi intrepidi, hanno da una parte quella libertà finanziaria, se la sono guadagnata con anni di lavoro di impiegato, oppure hanno sviluppato il loro progetto, il loro marketing da vendere, ma anche loro occuperanno il loro tempo libero in funzione di quello che hanno vissuto, in funzione di quello che è stato traumatico, quello che è stato, quello che è stato, è stato, ti dici, eppure ancora qui quello stato, da qualche parte noi non cambiamo ed è forse questa la più grande verità di questo video, non pensare di cambiare, ma renderti conto che questa è la vita in questa matrix duale, nel bene e nel male, ci sei, allora tutto diventa più semplice. il libero arbitrio è molto, molto limitato su questo pianeta, quello che puoi fare è fare quello che senti di fare e non pensare di essere libero di fare quello che fai, ma semplicemente azzera questa mente e portala a un'azione che ti fa stare bene, un'azione che ti fa stare bene, lo sei tu quando un'azione ti fa stare bene, puoi fare qualsiasi cosa, ma falla in modo da stare bene, e se non riesci a farla in modo che ti fa stare bene, fatti due domande, cambia il tuo sistema di credenze, rilassati, relativizza un po' tutto, non pensare più di avere una missione, l'abbiamo già detto, non pensare di essere qua per svegliare qualcuno, non pensare di fare il bene, non pensare, non pensare, fai quello che senti, io oggi ho sentito di fare questo video e l'ho fatto e ne sono molto soddisfatto, poi da cosa nascerà qualcosa di nuovo ed è questa la bellezza della vita, non sapere quello che vivrai domani, come lo vivrai, ma già sapere che non ci saranno bombe sulla tua testa almeno ancora per un po', già quello, già quello è una benedizione, è una benedizione, hai da mangiare, hai un tetto che ti protegge, avrai sicuramente qualcosa che ami fare, che puoi fare anche senza soldi, anche senza dover pagare per fare quella cosa che ti piace, prova a fare ad esempio niente, è meraviglioso, domani facciamo un po' di niente e poi ne riparliamo, aug, un bacio, buona giornata e avanti, avanti, avanti ancora, ancora un po', già che ci siamo qua, godiamoci quello che ci è possibile e quando non ci saremo più questo non sarà più il problema, ma se oggi la tua vita è un problema, quando non ci sarei più sarà un problema anche lì, questo è molto probabile, ciao